Benvenuto nella nostra dimora La sel ci sta addosso Dobbiamo spostarci come nomadi Beh, ti sei fatto un'idea Merda A tutte le unità Gli avancosti stanno per esplodere Ripiegare sulla linea verde Restate in movimento Ciao tesoro Aspetta, un attimo sono da te Bentornato La sel attacca con artiglieria digitale La nostra rete sta cadendo a pezzi Riportateci online, ora Merda Claire Non me ne frega un cazzo, dobbiamo tornare online Claire Dio Michael Che giornata Sono morti in tanti Stavo chiamando Dane quando è stato Ma che cosa Oh no No, no Claire Prophet Stammi a sentire Avanti Michael, guarda quelle modifiche E c'è? Sel? Forse neanche umano Abbiamo sacrificato tanta gente per questa Questa Mutazione Ascolta Questa non è solo una tuta Michael Claire Claire Siamo qui da cinque mesi ormai L'ago della bilancia continua a spostarsi E pende sempre più a nostro sfavore Doveva essere la nostra Normandia E invece ci nascondiamo come rati Noi colpiamo un po' qui Poi colpiamo un po' là Ma in questo modo non riusciremo mai a rovesciare le sorti Ci serve Una vera svolta Maggiore Lawrence Barnes Prophet Carlens Rush Al tuo servizio Rush Mi ricordo di te Fermo per favore DNA Ricombinante Umano Chef Sintetico Incredibile Non sto leggendo niente Avanti Lawrence Che ti aspettavi? Ho progettato io la tua tuta Quindi ovvio che Non possa farmi una lettura Claire ha ragione Lo sai riguardo Ai rischi Così potente ma Volubile Ed estardo Ribelle Dimmi Michael Ti ha mostrato i nostri piani? Lo farò al momento di andare Fantastico capo Sarà un duro colpo per la sel La situazione è molto peggiore Di quanto possiate immaginare Ho televisioni I frammenti di Dai Attaccheremo la sel Distruggeremo quel nesso energetico E porremo fine a tutto questo O quello che stanno facendo Provocherà l'estinzione di tutte le forme di vita sul pianeta Ricordatelo Sai Sembri profetico È forse voluto? Ti si addice Adesso È il momento di salvare la nostra specie Che ne dici? Bene Muoviamoci Stai attento Michael Lo farò Andiamo Ehi ti avevo detto di non parlare delle visioni Ehi ti avevo detto di non parlare delle visioni Ehi c'è il nesso energetico Il sistema X Abbattendo la diga elimineremo le difese centrali della sel Non possono alimentarsi con il sistema X? Non sulla stessa griglia Fammi capire Perché usare una diga Se hanno il sistema X Che è una fonte di energia infinita Ridondanza? O forse c'è qualcosa nel sistema X Che li spaventa Senti Psycho Ma tu le conosci bene queste persone Possiamo fidarci Perché da così di matto per la mia tuta Lei odia le tute Non so perché non gliel'ho mai chiesto Solo che è stata la sua squadra Tirarmi fuori dal laboratorio Mi ha salvato la vita Le scale sono bloccate Dovremmo fare funzionare l'ascensore Serve una mano? Serve una mano? No Levati Sto bene ok romeo 1 qui capo romeo prendo il controllo mi serve un link diretto ai dati del visore della nano tuta passo ricevuto ma solamente finché serve occultamente attivo occultamente attivo occultamente attivo ok ok Grazie a tutti. 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 baristica della cell è completamente offline, ma non è finita. Anzi, la situazione forse sta per peggiorare. I cell si ritirano, ma si rintaneranno nella base Nexus e probabilmente cercheranno di trasformare quest'area in una zona calda. Occhi aperti. Puoi giocare a nascondino? A sti veneri! Ci dà la caccia! Ho bisogno di rinforzi! Siamo solo qui! Claire, capo Romeo, qui Romeo 1. Sono ancora in stallo nell'ascensore. Ho bisogno di aiuto per tornare alla base. Romeo 1. Chiudi il tempo. Abbiamo problemi più urgenti da risolvere. Hai ragione, Psycho. Ti ama. Inizia a piacere anche a me. Cazzo! Romeo 1. Versaglio primario in pista. Il sistema X si trova in una struttura di raccolta a centinaia di metri sotto terra, ma il sistema di controllo si trova subito sopra. Devi trovare il modo disabito. Romeo 1. Situazione critica. La SEL continua a far funzionare il Nexus senza l'energia necessaria alla matrice di stabilizzazione. Potrebbe implodere tutto in qualunque momento. Avviamo l'operazione mattello pneumatico. Prendi il controllo della produzione di energia, così possiamo disattivare il sistema X in sicurezza. Ricevuto. Attenzione! L'alimentazione di emergenza è ormata. Avanti! Prima che si allontani! Divinetevi il controllo privamentale. Occultamente attivo. Oversight! 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 Qui parla Blacktail 9! Intervento rapido! Intervento rapido! Intervento rapido! Intervento rapido! Passo! Detvento rapido! Impulso vento attivo! Allarme resistente! Le valvole di sicurezza nella struttura di raccolta non sono più funzionando. Uh! Sì, non è vero, non è vero. Romeo 1, ti stai avvicinando alla struttura di raccolta. Trova i due alternatori. Devi spegnerli in fretta, così possiamo disattivare il Nexus. Non costa l'inviativo. Attenzione, livelli di energia in stati. Nei generatori 5, molto freddo. Allora, l'allatrice di stabilizzazione è in fronte. Allora, l'allatrice di stabilizzazione è in fronte. Allora, l'allatrice di stabilizzazione è in fronte. Grazie a tutti. Bene, Romeo 1. Ora mandiamo in pensione il sistema X. Grazie a tutti. Ah, questo posto ha qualcosa di familiare. Le visioni. I campi di energia intorno al sistema X danneggiano le aree temporo-mesiali del cervello. Abbiamo sperimentato allucinazioni, luciabù, falsi ricordi. A volte addirittura veri e propri disturbi dissociativi. Non sono pazzo. Le visioni sono profezie, non allucinazioni. Come vuoi, Romeo 1. Ma pensa alla missione. Vado a controllare. Ci siamo. Va fuori quei bastardi. Grazie, profeta. Grazie. Oggi sfuggeremo e spezzeremo le nostre catene. Oggi è il primo. Psycho, sono dentro. Sto violando i sistemi di sicurezza della SEL. Richiesta blackout di emergenza. Blackout di emergenza. Rilascio barra di regolazione effettivamente. Blackout di emergenza attivato. Passaggio ai generatori secondari. Proiezione display sistema X. Attenzione, contenimento sistema X fattivo. Cosa? No, non possono essere stati così stupidi. Il Chef Alva. Attenzione, violazione e compadimento. Sassiame il sessi corso. Attivazione e funzione corso all'alto. Protocollo. Fallita. Autodistruzione. Stuttura tra C. 4. META! Profe, stai bene? Sì. È stato incredibile, cazzo. Ce l'abbiamo fatta. No, non è così. Il sistema X, la loro fonte di energia, era il Chef Alva. Oh, merda. Se le tue visioni sono vere, allora questa è la fine del mondo. No. Significa che quel bastardo è libero e che ora posso ucciderlo. Ho appena messo le mani sulla banca dati Cell. E così ho scoperto il loro più grande segreto. Quella creatura era la fonte di energia della Cell. Il Chef Alva è molto più potente di quanto pensassi. Ma quando ero vicino a lui, ho visto cose che i Chef non volevano vedessi. Se possono entrare nella mia testa, forse io posso penetrare la loro e trovare un punto debole. Psycho, sai se c'è una culla qui vicino? Sì. Nel laboratorio dove la Cell mi teneva. Vediamoci lì fra tre minuti. Fai attenzione là dentro. Ci sono cose che non si possono perdonare, Michael.